Buongiorno e benvenuti a tutti, io sono Roberto Redelli, ingegnere civile, lavoro in Arpaces come BIM Consultant, mi occupo di varie attività che vanno dai software per BIM per le infrastrutture a gestione anche di progetti di innovazione. Oggi ho il piacere di avere qui ospiti, anche se in maniera a distanza, l'ingegnere Giacomello e l'ingegnere Bernardello dell'Università di Padova, che in realtà racconteranno la parte più interessante del webinar odierno e che in particolare, come vediamo dal titolo della slide, si focalizza sull'ottimizzazione effettuata mediante il software Trimble Quantum di quello che è il collegamento ferroviario Padova-Chioggia. Poi i colleghi spiegheranno meglio quali sono un po' i contorni nel quale si è inserita questa attività e anche ovviamente all'interno del percorso di tesi. Se Giovanni e Rachele volete dire due parole di presentazione su di voi in questa prima slide, magari può essere interessante farlo. Buongiorno a tutti, sono Giovanni Giacomello, sono ricercatore presso l'Università di Padova, Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale e mi occupo di costruzione di strade ferrovie e aeroporti. In questa sede vi presenterò, come ha già detto l'ingegnere Rivelli, il caso di studio che abbiamo svolto in un'università utilizzando il software Trimble Quantum sulla base di una tesi dello studente Gianfranco Bertone. Insieme a me hanno collaborato l'ingegnere Rachele Bernardello, che è qui presente, e l'ingegnere Paolo Borin. Buongiorno a tutti, io sono Rachele Bernardello, sono una studentessa di dottorato, lavoro presso il Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale di Padova e mi occupo principalmente di scambio informativo per quanto riguarda sia le infrastrutture che edifici e principalmente sia esistenti che di nuova progettazione e quindi il mio contributo è sul lato PIM rispetto al progetto che vi verrà presentato oggi. Faccio giusto una breve introduzione su Chiar Paceas, per chi di voi non ci conosce. Siamo una società fondata a Milano nel 1990, un gruppo di ingegneri che venivano da un'esperienza maturata presso lo studio Finzi Associati. In questi 30 anni, Paceas si è proposta sul mercato con un portfoglio di vari software BIM, sia nell'ambito del calcolo strutturale e geotecnico, e di fatto questa proposta che noi diamo ai clienti si completa anche con i percorsi di formazione e implementazione del BIM all'interno delle varie realtà pubbliche e private. Quindi di fatto crediamo molto in innovazione, competenza, ascolto del cliente e indipendenza per guidare quella che è un po' la trasformazione digitale che il settore delle costruzioni, così come l'adozione del BIM, sta affrontando in questi ultimi anni. I nostri clienti sono molto variegati tra loro, abbiamo chi viene dal mondo della progettazione, quindi architetti, ingegneri, geotecnici, eccetera, eccetera, impiantisti, dal mondo, per così dire, delle carpenterie metalliche e della produzione, quindi le imprese, prefabbricatori, produttori, fino ad arrivare ai gestori, stazioni appaltanti pubbliche e real estate owners. Come anticipavo, il portfoglio di prodotti di Arpacias è molto ricco, ci sono vari ambiti nei quali proponiamo prodotti, che siano dai software di Bimotoring, quindi più legati alla parte di modellazione barra progettazione, dove in realtà accade anche Quantum, seppur poi, come vedremo, si posizioni in una fase precedente a quello che poi è la gestione del progetto, tecnologie innovative di Mixed Reality, sistemi per il BIM Information Management, che vanno da sistemi di modello e code checking, piuttosto che gestione, quindi anche l'asset information management, e i Command Data Environment, quindi soluzioni e ecosistemi di collaborazione a vario titolo, che possono supportare i progettisti nella conduzione del loro progetto, e poi anche software più verticali di calcolo strutturale e geotecnico. I nostri partner sono anche qui molto vari, sia ovviamente quelli commerciali, quindi le software house con le quali ci interfacciamo, come ad esempio Trimble, nel caso di Trimble Quantum, piuttosto che partner istituzionali, mondo dell'università, mondo della ricerca, associazioni di categoria, e chiaramente anche quei soggetti che ruotano intorno al mondo delle costruzioni. Servizi BIM si completano appunto anche con quelli che possono essere i percorsi di formazione che proponiamo ai nostri clienti su quelle che sono varie tematiche, dall'inquadramento normativo e giuridico, alle tecnologie, ai metodi e le procedure che si possono applicare per implementare appunto un metodo all'interno della propria realtà, è un metodo digitale, che è frutto anche di un'attività di vera e propria consulenza che viene fatta con i nostri clienti, e può anche essere completato ulteriormente con percorsi di formazione e successiva certificazione per le figure che ruotano attorno al mondo del BIM, quindi BIM Manager, Coordinator, Specialist, piuttosto che CDE Manager. Entriamo invece nel dettaglio di quello che è il tema di oggi, ovvero Quantum. Trimble Quantum è una soluzione, un software che all'interno di quello che potremmo definire come Civil Continuum, cioè tutto il life cycle delle infrastrutture, è quella piattaforma appunto che è pensata per supportare i tracciatisti e i progettisti nell'individuazione dei migliori tracciati, quindi nello studio di fattibilità e l'ottimizzazione dei tracciati tipicamente stradali e ferroviari. Punto di partenza all'interno di un progetto appunto di un'infrastruttura lineare per fare delle scelte strategiche. Ovviamente fino a un certo livello di dettaglio che guidano poi tutto il resto del ciclo vita, quindi la progettazione e modellazione di dettaglio, la cantierizzazione dell'opera, fino ad arrivare poi alla gestione e manutenzione. Andrò abbastanza veloce su quelli che sono magari gli obiettivi di uno strumento come Trimble Quantum, perché poi il dettaglio anche sul caso pratico verrà trattato successivamente dai colleghi. Di fatto l'attività di alignment planning, studio di fattibilità dei tracciati, ha l'obiettivo di ovviamente aiutare il progettista a ridurre quelli che sono complessivamente i tempi della progettazione, di trovare in maniera più efficace possibile differenti soluzioni alternative di tracciato e quindi stimare anche quella che è reputata la più economica, la più vantaggiosa dal punto di vista anche ambientale, piuttosto che dei costi di costruzione della presenza delle opere, eccetera, eccetera, che effettivamente rappresentano un aspetto cruciale all'interno di tutto il ciclo vita. E questo può essere fatto ovviamente grazie anche al supporto di un software come Trimble Quantum, che in maniera molto specifica, data un'area di interesse, quindi un'area di progetto nella quale andiamo a inserirci, nella quale dobbiamo fare il nostro studio, quindi indipendentemente da dove ci troviamo nel globo, ci permette con i suoi algoritmi di individuare le diverse alternative che permettono di collegare, diciamo, un punto A di inizio con un punto B di fine. Quindi qui vediamo una semplice schematizzazione di quello che poi è l'output che effettivamente Quantum, a valle dell'elaborazione dei dati che gli diamo in pasto, ci può restituire. Quindi troveremo sicuramente nelle condizioni al contorno le informazioni dell'area dal punto di vista dell'orografia del territorio, delle zone da evitare, delle zone che comportano un certo costo perché magari sono da espropriare, eccetera, eccetera, piuttosto che la presenza di infrastrutture esistenti. Tutti elementi che il software deve digerire e deve considerare nella restituzione poi dei vari tracciati che qui vediamo in questo esempietto identificati con colore diverso e poi vedremo il perché. Chiaro che le tipologie di progetti che riguardano appunto uno strumento, quindi un'attività di alignment planning e quindi l'utilizzo di un software come Quantum sono quelle che vedete qui. Progetti stradali, progetti ferroviari, pipeline, non necessariamente devono essere progetti con un'estensione enorme perché di fatto, anche magari in una zona più contenuta, il poter valutare diverse alternative in questa fase diventa molto utile, soprattutto dal punto di vista di quelle che poi sono le scelte che guidano la progettazione che verrà poi in dettaglio. Ok. Il software è in grado di identificare appunto una zona nella quale vogliamo fare quest'analisi, magari anche supportata da quelli che sono i dati che possono derivare da Google Earth, poter associare una serie di dati ulteriori, quindi cartografie, immagini satellitari, tutti i dati che possono anche derivare dai database di tipo GIS e questi costituiscono appunto la base sulla quale poi il software fa la propria analisi e tramite gli algoritmi specifici ci permette di individuare le soluzioni che reputiamo essere le più efficaci. E ovviamente non è solo l'inserimento di quello che è il contesto che noi andiamo a definire nel programma, quindi quelli che sono gli elementi che il software deve considerare nell'applicare i propri algoritmi, ma anche una serie di ulteriori parametri. Poi li vedremo più nel dettaglio successivamente, ma vi basti sapere in questa fase che di fatto noi possiamo gestire quello che è il template delle sezioni trasversali che verranno montate, per così dire, sui tracciati, quelli che sono le varie voci di costo dei materiali, delle opere d'arte, dei pacchetti di pavimentazione, delle lavorazioni associate a quello che è il tracciato che vogliamo identificare, così come gli aspetti geometrici, quindi di costruzione degli elementi plano-altimetrici con magari dei parametri guida che troviamo e che possiamo impostare in fase iniziale all'interno del nostro scenario. Così come l'identificazione e l'assegnazione dei vincoli di tipologia lineare, pensiamo ad esempio ai fiumi, piuttosto che strade esistenti, ferrovie esistenti o utilities presenti nella zona. Le zone, quindi elementi poligonali, proprietà, aree boschive, area di interesse naturalistico, archeologico, o parametri globali, magari legati all'intera zona di progetto. Come vi dicevo, Quantum, oltre a elaborare questi dati, ha effetto un vero e proprio processo di ottimizzazione, che è un po' il suo fiore all'occhiello, un po' la caratteristica che lo contraddistingue, ovvero la possibilità con degli algoritmi dedicati di poter effettuare un'ottimizzazione in questa ricerca dei tracciati. Quindi esistono diverse tipologie, dall'identificazione del corridoio preferenziale, sia che si tratti di un'identificazione libera di quello che è il tracciato migliore all'interno di un'area che stiamo considerando, che collega appunto un punto A con un punto B, o un'identificazione, sempre nella corridor identification, di quello che può essere il percorso migliore a partire non da un'area, per così dire, libera, ma da un percorso indicativo. Quindi quell'opzione che può essere intesa anche come Quick Seed e si basa di fatto su una polilinea a cui il sistema deve tendere nella ricerca dei tracciati. E poi, come vi dicevo, a livello iterativo è possibile anche sulla base di un primo output che otteniamo dalla corridor identification effettuare via via diversi step di ottimizzazione con in particolare la Seeded Submission che ci ottimizza una prima alternativa e magari su di essa facciamo un'ulteriore ricerca per andare a identificare quelle che possono essere altre alternative migliori rispetto a quella di partenza, magari modificando solo alcuni punti, magari determinati intervalli di progressive piuttosto che solamente la parte altimetrica. Ci sono varie opzioni. È anche possibile con quest'ultima opzione della Realignment Submission andare a effettuare questo processo di ottimizzazione a partire da un tracciato esistente perché non sempre partiamo da zero, diciamo, da un territorio vergine. Magari abbiamo la necessità a partire da quello che è un tracciato esistente di riottimizzarlo e questo può essere un'ulteriore modalità di lavoro. Con l'obiettivo poi alla fine, quindi qui vediamo un esempio molto semplice della nostra zona con l'identificazione dei vincoli, quindi le aree montuose, le aree cittadine, le varie proprietà, la presenza di ferrovie esistenti, fiumi o altre zone, di ottenere a valle di quella che è la ricerca dei nostri tracciati e quindi degli algoritmi che vi dicevo in precedenza, una serie, un fascio di tracciati che qui vediamo graficamente rappresentati con vari colori di cui ovviamente abbiamo l'identificazione anche in tabella. Ciascun tracciato, la sua lunghezza, il suo costo, eventualmente anche l'impatto legato alla CO2 e indicazioni su quelli che sono gli elementi plano altimetrici che lo compongono. Quindi da qui che il tracciatista può fare le proprie valutazioni nel scegliere quello che è reputato al tracciato più breve o più economico e su di esso fare ulteriori considerazioni e ottimizzazioni. Questo si inserisce di fatto all'interno di un processo, quindi tornando a quello che diciamo è un'apertura del ciclo vita, l'attività di alignment planning chiaramente si posiziona nelle primissime fasi del ciclo vita di un'infrastruttura e questo cosa significa? Significa che le considerazioni e gli obiettivi che abbiamo in questa fase fanno scopa anche con l'accuratezza dei dati che utilizziamo. Quindi le problematiche che dobbiamo curare nell'alignment planning ci porteranno arrivare fino a quello che può essere eventualmente una progettazione preliminare come viene indicato qui che si interseca se volete con quello che è il mondo che viene dopo ovvero della progettazione di dettaglio dell'infrastruttura e quindi anche con gli strumenti veri e propri di bimotoring varie soluzioni. Come può uno strumento come quantum comunicare andando quindi al di là di quelle che sono le attività che vengono dopo nel ciclo vita di un'opera. Lo può fare ad esempio tramite il ricorso a formati aperti quale il NAND XML che dunque permette di mantenere quello che è l'output della nostra ottimizzazione della nostra analisi del nostro studio di fattibilità e diventare quindi un input per la progettazione che poi da lì in avanti proseguirà per quello che è il ciclo vita stesso. E dunque questo è un po' il preambolo di quello che effettivamente rappresenta un po' il modus operandi di quantum e che poi rappresenta l'assist che io darò ovviamente ai colleghi per introdurre più nel dettaglio questo tipo di discorso. Prima però di lasciare la parola in particolare a Rachele vorrei lanciare ulteriori sondaggi ecco qui dovreste vederlo per chiedervi se già lo conoscete il software Trimble Quantum oppure la prima volta che ne sentite parlare vediamo chiedo ancora un piccolo sforzo ai partecipanti per completare le risposte ok direi che più o meno ci siamo tutti e la maggior parte di voi non lo conosce quindi avrete modo in questa in questa sessione di diciamo poter vedere un pochino più da vicino delle funzionalità appunto del software per quanto riguarda quelle che sono le caratteristiche e i benefici che può portare l'utilizzo di un software di questo tipo e a tal proposito lancio un altro sondaggio che chiede se vi occupate in maniera continuativa di studi di fattibilità dei tracciati parlavamo appunto in precedenza di qual è il confine nel quale Quantum si posiziona che ovviamente è parte di un percorso più ampio e che quindi riguarda lo studio di fattibilità ok anche qui quasi tutti hanno partecipato e la maggior parte di voi vedo che in realtà anche in questo caso ho risposto no quindi qui magari vi farete più un'idea di quelle che sono le attività anche di studi di fattibilità magari con uno strumento come Quantum un ultimissimo sondaggio che però ovviamente è più rivolto lo lancio comunque ma sarebbe più rivolto a chi effettivamente si occupa di questa attività quindi magari avrà dei software adeguati per la ricerca dei migliori tracciati chiedo comunque di rispondere anche a questa parte che può essere utile anche per noi per magari proporre ulteriormente dei webinar su questo tema ok direi che come percentuali ci siamo e lascerò un ultimo sondaggio alla fine quindi a questo punto mi taccio e lascio la parola alla collega Rachele grazie Roberto ricollegandomi appunto appena detto come si può vedere poi dall'animazione della slide stessa il mio compito un po' all'inizio è quello di dare una panoramica di quello che è stato il lavoro e come anticipava la progettazione del tracciato e la scelta della migliore alternativa è uno degli aspetti relativi alla progettazione poi dell'infrastruttura quindi anche questo lavoro di cui oggi presentiamo una parte era molto più ampio e ha ricordato molti aspetti quindi una prima parte di appunto di progettazione sia dei di valutazione sia dei criteri iniziali con i vincoli e poi la scelta additiva della migliore alternativa di progetto è stata una parte di cui si è occupato poi principalmente come supervisore il mio collega l'ingegner Giavello e poi tutta una parte invece poi di effettiva modellazione dell'infrastruttura poi attraverso software in particolare però quello che è stato l'interesse principale è stato quello di andare ad analizzare ad andare a verificare quelli che sono poi gli scambi formativi quindi l'utilizzo appunto dell'NXML come formato per lo scambio di informazioni da prima analisi di scelta del miglior tracciato a poi quella che è l'effettiva parte di modellazione che non è ovviamente oggetto del webinar di oggi è quello che è poi anche parte del lavoro che è stato fatto sempre nell'ottica di definire fin dalle primi appunto studi di fattibilità quello che ha tutto il flusso ed andare a analizzare come esso viene svolto e quali possono essere poi le problematiche quindi questo per dare un'ottica generale all'interno della quale è stato svolto poi la parte di intervento che viene adesso presentata da l'inzio Giacomando grazie Rachele buongiorno a tutti di nuovo nel mio intervento vi illustrerò quello che è effettivamente il caso di studio e come è stato svolto utilizzando il software Trimble Quantum in questa slide potete vedere un inquadramento territoriale siamo in regione Veneto nella parte di pianura tra Padova e la esattamente Grazie e la città di Chioggia che è verso destra sotto la laguna di Venezia nella successiva slide potete vedere come il sistema attuale delle linee ferroviarie veda un collegamento tra diciamo Padova o comunque la città di Rovigo con la città di Chioggia tramite una linea non elettrificata doppio binario nel nelle ipotesi di progetto della regione Veneto che vediamo nella successiva slide è stato diciamo ipotizzato un collegamento tra Padova e Chioggia in maniera diretta tramite quel collegamento in blu che farebbe uso di un tratto di linea già esistente compreso tra Mestre e Adria e esatto la linea esistente sarebbe tra Piove di Sacco e Correzzo in questo caso il nostro caso di studio si va a inserire su lo studio di un tracciato non esistente e si voleva andare a capire quale poteva essere diciamo all'interno dello studio più ampio illustrato dalla mia collega Rachele Bernardello si voleva andare a capire quale poteva essere la sede più opportuna per questo trattato nella slide successiva vediamo come quali sono le motivazioni principali quindi come ho già detto l'opera del collegamento Padova-Chioggia il collegamento ferroviario è un'opera già prevista nel piano dei trasporti della regione Veneto inoltre questo tipo di collegamento potrebbe favorire la promozione dell'utilizzo del trasporto ferroviario come opzione per raggiungere da Padova principalmente ma anche da altre città del Veneto le spiagge di sottomarina che sono molto utilizzate e per chi è della zona insomma sa che il traffico stradale è molto molto intenso soprattutto nei mesi estivi e quindi questo aiutere diciamo a riequilibrare quelle che sono le modalità gomma ferro in modo tale da portare una parte del traffico verso il trasporto ferroviario quindi ci potrebbe essere quindi grazie a questo nuovo collegamento un riequilibrio modale del trasporto passieri ma anche del trasporto merci ovviamente dai porti di Venezia e di Chioggia visto che Chioggia è ricompreso all'interno del porto di Venezia infine l'ultimo punto sarebbe diciamo a raggiungere un trasporto regionale integrato intermodale nella successiva alla slide vediamo per sommi capi quali sono diciamo i punti principali della linea ferroviaria si parte dalla stazione di Padova centrale in alto a sinistra come vincolo noi avevamo pensato di passare per l'interporto di Padova proprio per sfruttare la posizione diciamo ai fini merci dell'eventuale stazione successivamente si passava per la stazione di Piove di Sacco e per la stazione di Ponte Longo che sono le due stazioni già servite dalla linea ferroviaria Mestre e Adria che abbiamo visto prima e infine si arrivava alla città di Chioggia in basso a destra sotto la laguna di Venezia quindi le ipotesi di tracciato sono come vi ho già detto l'attraversamento dell'interporto di Padova l'utilizzo della linea esistente tra Piove di Sacco e Ponte Longo e l'attraversamento della laguna Veneta o il paggio nell'entroterra come potete immaginare la costruzione di un ponte lagunare potrebbe aumentare i costi della linea ferroviaria ed è quindi che il software quantum ancora una volta può essere apprezzato proprio per avere un'idea dei costi proprio delle strutture da costruire l'ottimizzazione del tracciato con il software ha subito una serie di step si è partiti inizialmente dall'inserimento del modello del terreno che dopo vedremo più nel particolare poi si è passati alla definizione dei vincoli territoriali tramite carte geografico oppure come diceva prima Roberto su zone urbane i fiumi la laguna si è passati alla definizione delle sezioni tipo dei costi dei parametri geometrici che vedremo bene in particolare e infine si è passati all'ottimizzazione fritturome per definire i diversi tracciati quindi passiamo all'inserimento del modello del terreno innanzitutto si deve quindi inserire il modello digitale del terreno il modello digitale si può recuperare da qualsiasi portale cartografico nel nostro caso era il portale della regione veneto tramite il dtm si va si va a caricare il dtm sul software e si ha come vedete nell'immagine in questa slide si ha diciamo la rappresentazione del territorio in formato digitale ovviamente non basta il modello digitale ma servono anche delle diciamo delle altre carte che possano indicare la rappresentazione del territorio in questo caso in questa slide vedete la rappresentazione della carta tecnica regionale la CTR che è stata sempre estratta dal portale cartografico e inserita tramite uno dei formati richiesti dal software all'interno del modello digitale in questo modo avevamo la possibilità di capire e comprendere in quale posizione eravamo all'interno del modello rimani pure sul precedente slide per favore volevo dire che un'altra cosa importante da inserire inizialmente sono gli end points ovvero i punti di origine e di fine del tracciato grazie che consentono quindi di capire da dove parte il tracciato e dove arriva in questo caso come vi ho detto il punto iniziale è la stazione ferroviaria di Padova il punto finale è la stazione ferroviaria di Chioggia entrambe già esistenti nella slide successiva si vede come è stato possibile inserire all'interno del modello digitale i corsi d'acqua tramite l'oggetto lineare river e in questo caso vedete il nome Brenta del fiume degli esempi e successivamente la laguna di Venezia tramite l'area water che vedete sulla destra in tutti e due casi è stato possibile definire quale poteva essere l'altezza del ponte che veniva a crearsi o sul fiume o sulla laguna di Venezia esattamente quindi nel caso del fiume 8 metri nel caso della laguna 3 metri di altezza ovviamente questi sono parametri liberamente impostabili successivamente sono state imposte le aree urbane che vedete in questa slide nel colore rosso diciamo acceso indicavano quindi delle aree a void ovvero delle aree non utilizzabili dal software per far passare il tracciato nella stessa slide vedete anche l'inserimento delle stazioni diciamo lungo il tracciato in questo caso la stazione di legnaro e durante l'inserimento delle stazioni bisogna avere l'accortezza di inserire diciamo il verso e quindi la lunghezza della stazione proprio perché il software sappia qual è la direzione da seguire durante l'implementazione della la modalizzazione del tracciato successivamente si passa quindi ecco qui vedete una visione di insieme di quelli che sono tutte le aree a void ovvero le aree urbane i corsi d'acqua e la laguna di Venezia che erano tutte aree per cui il software doveva ovviamente avere delle accortezze non poteva passare nelle aree a void e doveva mantenere delle certe altezze e quindi imporre una struttura un ponte sui fiumi e sulla laguna successivamente si vanno a definire tutte le caratteristiche che abbiamo di cui aveva già parlato Roberto quindi la sezione tipo i costi e i parametri geometrici in questa slide è la sezione tipo quindi si vanno a definire in un template tutti quei dati che fanno parte della sezione tipo del corpo strato che vedete rappresentata proprio nell'immagine questi servono per generare l'allineamento e quindi poi calcolare poi il software andrà a calcolare i volumi e le aree di territorio oggetto del intervento infrastrutturale in questo caso specifico si è stabilito che la linea ferroviaria dove ho già fosse a singolo binario successivamente si vanno a impostare i costi i costi sono divisi in diverse schede cioè la scheda inizialmente partiamo dalla scheda global che definisce i costi connessi con le operazioni di movimento terra e la definizione di come realizzare le scarpate dei rilevati delle trincee in questo caso vedete ad esempio è stato riportato per una certa pendenza una certa altezza i valori riguardo al movimento terra la successiva scheda è la scheda material nella quale vanno indicati tutti i vari le tipologie di terreno che vengono che possono essere utilizzate durante le operazioni quindi cercare di dare dei significati a quelli che sono i movimenti terra poi si passa a una scheda geologi nella quale vengono indicati ulteriori dati come esempio lo spessore delle diverse strati del suolo e poi si può passare a un template materials nella quale vengono ad esempio indicati i costi relativi al materiale utilizzato nell'infrastruttura in questo caso parte dell'infrastruttura ferroviaria quindi il ballast la massicciata le rotaie il sottofondo e via discorrendo successivamente si passa alla scheda dei struttural cost ovvero i costi per unità di riferimento per le opere strutturali che in questo caso sono state i bridge cioè i ponti i tunnel cioè le gallerie e i wall ovvero i muri di sostegno in questo caso diciamo si è lasciato default per tutti e tre i tipi di costi indicando ovviamente il valore perché si è voluto lasciare al software la massima diciamo libertà per definire quelle che sono le lunghezze dei tunnel o dei ponti o dei muri essendo in pianura diciamo non si avevano diciamo non si avrebbero avuti grandi 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 numeri insomma ecco passando alla successiva slide possiamo vedere un esempio di other costs in questo caso si possono definire diciamo i costi di attraversamento di determinate aree oppure dei costi di tipo lineare o ancora i costi fissi nell'esempio portato sono stati riportati è stato inserito il costo a metro lineare per la realizzazione della tecnologia SCMT ovvero del sistema di controllo della marcia del treno faccio una piccola parentesi sui costi utilizzati in questo caso nella tesi sono stati utilizzati i costi disunti dal RFI visto che si trattava di un tracciato ferroviario ma possono essere utilizzati preziari di qualsiasi altro tipo insomma successivamente si vanno a definire i parametri geometrici anche in questo caso abbiamo diverse schede per inserire diversi parametri geometrici nella prima che in questa slide sono riportati i parametri del diciamo allineamento orizzontale ovvero raggio delle curve raggio minimo delle curve circolari in questo caso 1200 metri valore massimo della sopraelevazione ma in questo caso 10.6 per cento tipo di raccordo delle curve di transizione in questo caso clotoide e così via ovviamente tutti i parametri cinematici che deve definire il progettista nella seconda scheda abbiamo definito i parametri che riguardo all'allineamento verticale del progetto come ad esempio il tipo di raccordo verticale una parabola il raggio del raccordo verticale sia per le schede che per i dossi in questo caso 15.000 metri e successivamente sono state definite ovviamente le tratti verticali in questo caso 50 metri e così via la successiva scheda riguarda invece le tendenze grade e come vedete sono state definite delle pendenze massime pari al 21 per 1000 perché in Italia il sistema promiscuo treni, passeggeri e merci prevede un valore di 21 per 1000 come vedete però c'è una piccola partner un altro diciamo casella in cui possono inserire delle altre pendenze sustained grade questa sustained grade indica la pendenza che può essere inserita all'interno di un piccolo tratto che noi abbiamo identificato con un valore di 800 metri che riguarda diciamo in questo caso del collegamento Padova-Chioggia riguardava i tratti di collegamento dei ponti ovvero diciamo le rampe insomma per collegare il ponte con il resto dell'infrastruttura quindi in questo caso è stato utilizzato per questa cosa però ovviamente può essere utilizzato per altri scopi una volta quindi definiti tutti i vari parametri che abbiamo visto quindi che ripeto il tipo di sezione i costi e i parametri geometrici si può passare all'ottimizzazione nel nostro caso abbiamo diciamo generato di diversi tracciati alternativi utilizzo di comando corridor identification e siamo passati all'ottimizzazione che in questo caso è stata la frame to road non abbiamo utilizzato altre tipologie di ottimizzazione perché abbiamo diciamo cercato di ottenere il numero massimo di tracciati possibili su tutta l'area di studio in questo caso si può ovviamente fissare il numero massimo come vedete nella slide sono 25 il numero massimo che avevamo a disposizione con questo tipo di software per poter diciamo procedere con questa ottimizzazione free to road una volta lanciata la free move to road il software suggerisce questo numero ottimale di tracciati da produrre ovviamente in relazione alla lunghezza del progetto vi si apre quindi una scheda con tutti gli allenamenti prodotti e questi allenamenti hanno ovviamente un relativo costo e avranno dei warning che sono legati al fatto che il preciso allineamento che è raffigurato nell'edenco non rispetta i vari valori impostati dal progettista nella fase precedente del lavoro quindi di volta in volta il progettista può andare a vedere quale dei valori non è stato rispettato e perché non l'è stato fatto non l'è stato sia nell'elenco che nella mappa nel modello digitale che vedete da destra il software va a colorare i diversi i diversi tracciati in maniera diversa il colore è diciamo rappresenta rappresenta praticamente il costo il colore blu rappresenta il colore il costo minimo mentre il rosso rappresenta il costo più elevato i colori intermedi passando da colori freddi a colori caldi rappresentano costi via via crescenti come vedete ovviamente il software può prevedere soluzioni diciamo non cioè che come progettisti non avremo assolutamente preso in considerazione ma questo dipende ovviamente dai vostri dei vincoli che voi inserite di volta in volta durante la vostra progettazione preliminare quindi successivamente a questo il progettista può andare a scegliere in base ai suoi vincoli quali sono i tracciati da prendere in considerazione nel nostro caso specifico abbiamo identificato cinque tracciati che vedete qui elencati i primi quattro passavano tutti sulla laguna tramite un ponte il quinto era senza ponte sulla laguna il primo tra Piove di Sacco diciamo passando il tracciato passava per il Piove di Sacco e per l'interporto di Padova anche il secondo passava per l'interporto di Padova ma prevedeva la tratta esistente tra Piove di Sacco e Ponte Longo il terzo tracciato passava per la periferia est di Padova e per Piove di Sacco il quarto per la periferia est di Padova e per la tratta esistente Piove di Sacco e Ponte Longo il quinto passava per la tratta esistente e per l'interporto di Padova tramite una analisi multicriteria abbiamo effettuato una valutazione ulteriore di quelle che potevano essere le diciamo le caratteristiche successiva slide vedete i diciamo dati utilizzati quindi il costo complessivo del tracciato l'impatto ambientale la complessità del progetto e l'efficacia trasportistica in base a questa analisi è risultato che l'ipotesi numero 5 fosse quella migliore e perché passava attraverso l'interporto di Padova passava utilizzava la tratta esistente tra Piove di Sacro e Ponte Longo ed evitava il passaggio per la laguna Venezia quindi definito il tracciato per noi migliore siamo andati sul software e abbiamo estrapolato quello che era il tracciato definito da Trimble Quantum come vedete qui vi ho riassunto i diciamo i punti più salenti del tracciato come avevo fatto all'inizio della presentazione e quindi potete vedere come il software Trimble Quantum sia diciamo dia la possibilità tramite impostazioni di pochi diciamo parametri preliminari dia la possibilità di definire una serie un ventaglio di possibilità da cui poi il progettista può attingere per definire quello che è il primo tentativo di tracciato e quindi poi andare ad analizzare come diceva Rachele con una progettazione più spinta quella che è il tracciato definitivo da qui per poi tornare a quello che è stato il lavoro generale per vedere come è anche possibile inserire la progettazione del tracciato all'interno poi di un processo più ampio che porta all'effettiva realizzazione dell'infrastruttura vediamo le ultime due fasi che sono state svolte all'interno dell'intero processo ovvero quella di utilizzare l'export del software ovvero l'NXML per rientrare poi all'interno di quella che è una modellazione BIM di tutta l'infrastruttura ferroviaria e infine una parte fondamentale che è quella ovviamente per tutti i progetti sia di tesi ma anche quelli che insomma svolgiamo in ambito di ricerca andare ad identificare le criticità sia relativi allo scambio informativo tra diversi software utilizzati e anche poi dei singoli software stessi quindi la modellazione del terreno nell'uno o nell'altro lo scambio informativo effettivo l'operabilità che è stata possibile tramite l'export in l'NXML eventuali poi export Open BIM questi ovviamente più relativi alla parte di il modello diciamo BIM finale quindi di nuovo andare a vedere come una parte che è quella della progettazione quindi analizzare e verificare il primo tracciato come si inserisce in un'ottica più generale di progettazione dell'intera dell'intera infrastruttura noi abbiamo concluso la presentazione insomma di quello che è stato questo lavoro sull'interdisciplinare all'interno del dipartimento e quindi siamo disponibili se ci sono eventuali domande e soprattutto ringraziamo per l'attenzione del tempo dedicato grazie di aver partecipato grazie anche nuovamente ai colleghi Giovanni e Rachele per il loro prezioso contributo e per tutto il lavoro interessante di tesi che ovviamente ci hanno mostrato e alla prossima allora una buona giornata a tutti grazie buona giornata grazie